Ciao a tutti ragazzi, buon lunedì e benvenuti a Videogame News, la rubrica di EvryEye.it che vi permette di tenervi sempre aggiornati con tutte le notizie dal mondo dei videogiochi. E cominciamo questa edizione parlando di Naughty Dog. Lo sviluppatore ha infatti annunciato che il Grounded Bundle, ossia l'ultima espansione dell'esclusiva PlayStation 3 The Last of Us, uscirà il 7 maggio in concomitanza con l'aggiornamento del PlayStation Store e farà contenti sia gli appassionati di single player sia quelle di esperienze multigiocatore. Infatti comprenderà nuove ambientazioni per il comparto multiplayer ed un livello di difficoltà aggiuntivo per la campagna. E si torna a parlare dell'aggiornamento 1.70 di PlayStation 4, cioè Yoshida di Sony ha infatti recentemente annunciato su Twitter che l'update permetterà anche di regolare l'intensità della light bar del DualShock 4. Si tratta di una feature sicuramente molto richiesta dai fan e soprattutto particolarmente utile per aumentare la durata della batteria del pad. Ricordiamo tutti che l'aggiornamento con tutte le sue altre novità arriverà il 30 aprile. Completamente a sorpresa, GameStop ha annunciato la chiusura di circa 120 negozi in tutto il mondo, con l'intenzione di sfruttare meglio i marchi StoreSpring Mobile e SimpliMac. Sono negozi, questi ultimi, dedicati più al mercato smartphone e tablet, dove chiaramente il venditore retailer intende ad entrare in maniera più competitiva. Il CEO Paul Reigns ha chiamato questa iniziativa GameStop 3.0 e dice che anticiperà tutta una serie di revisioni all'interno del retailer. Chiaramente la mossa ha un costo, dato che chiede la chiusura di circa il 2% dei 6.500 negozi al momento aperti di GameStop. E si torna a parlare di Mad Max, il gioco free roaming post-apocalittico ispirato alla saga cinematografica di Interceptor. Infatti Warner Bros. e Avalanche Studios hanno definitivamente confermato che il gioco uscirà l'anno prossimo, quindi nel 2015, smentendo tutte le voci che lo volevano in uscita entro la fine dell'anno. Naturalmente si tratta di un gioco multipiattaforma, quindi lo aspettiamo su PC, Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One e PlayStation 4. E passiamo adesso a Microsoft che ha recentemente annunciato i risultati del terzo trimestre dell'anno fiscale 2013, chiusosi il 31 marzo. La compagnia ha annunciato utili per 5,6 miliardi di dollari, quando invece il fatturato si aggira attorno agli 8,33. La divisione hardware annuncia 1,2 milioni di Xbox One e 800.000 Xbox 360. La crescita del fatturato della divisione hardware è di circa il 12%. Conseguentemente il nuovo CEO Satya Nadella si è detto molto soddisfatto e confidente nel prolungarsi di questo trend positivo per la compagnia. Epic Games ha invece annunciato che gli strumenti in sviluppo relativi alla versione 4.0 dell'Unreal Engine sono finalmente pronti per tutti gli sviluppatori, che non devono fare altro che registrarsi come sviluppatori Xbox o PlayStation, contattare la compagnia per delle verifiche ed infine ottenere tutto il pacchetto necessario a cominciare con lo sviluppo. Personalmente non vediamo l'ora di verificare con mano i primi risultati dell'utilizzo di questo engine. Just Adwater ha recentemente rivelato che la data d'uscita del attesissimo Oddworld New Entesty verrà svelata poco prima dell'inizio delle 3 2014, che vi ricordiamo è fissato per il 9 giugno. Inoltre gli utenti PlayStation potranno godere del cross-buy, quindi ad esempio acquistare il gioco su PlayStation 3 e goderne anche su PlayStation 4 e PlayStation Vita. Vi ricordiamo che comunque il titolo vedrà la luce anche su Wii U e PC. E come di consueto chiudiamo con le nostre personalissime top e flop news. E il top di questa settimana non può che andare a Broken Sword 5. Noi l'abbiamo recensito e nonostante una prima parte un po' frettolosa l'abbiamo trovato davvero eccezionale, probabilmente il miglior Broken Sword dai tempi del primo capitolo. Se siete appassionati di genere punta e clicca, le nuove avventure di George e Nico non mancheranno di appassionarvi. E il flop di questa settimana va invece a From Software. Noi abbiamo recensito la versione PC di Dark Souls 2, la quale peraltro ci ha anche impressionato, soprattutto se confrontato con il porting del primo Dark Souls su PC. Ciò nonostante ci sono molti utenti che hanno riscontrato problemi di compatibilità sia a livello di hardware di base sia a livello di controller. La Software House dice di essere al lavoro su delle patch e speriamo che questo possa accadere al più presto per tutta la community. Questa era l'ultima notizia di oggi e noi come di consueto vi diamo appuntamento al prossimo giovedì. Ciao!